Buono, via la registrazione, ok, togliamo le slide e spegniamo anche Skype che vi avete scritto, così non disturba. Ok, prima cosa, vorrei partire però mettiamo questo grafico qua che è più pulito, allora Euro-Dollaro, se noi partiamo dall'idea, questo è rivolto ad Umberto, non solo a Umberto ma anche a Marco, non so se c'è adesso già nel webinar, comunque guarda, si vedrà la registrazione, che mi hanno chiesto entrambi, adesso non ricordo bene la domanda, comunque la spiego subito, praticamente come tradare i cicli nel time frame orario scendendo di time frame magari sui 15 minuti. Allora, prima cosa, per dirlo chiaramente, se un time frame è orario si può moltiplicare per 4, quindi 4 ore, o dividere per 4, quindi 15 minuti. Il 15 minuti non lo posso dividere per 4, quindi dovrei fare con un indicatore una divisione di questi 15 minuti a 3,75, non esiste, però si può fare 4 minuti. Non penso che abbia tanto senso star lì a fare tante cose complicate e si passa subito al minuto. È un po' più veloce ed è tutta un'altra tecnica perché sul minuto devo andare a fare praticamente solo Skype. bene, ok, torniamo a noi, noi qui siamo sul time frame orario, bene, ok, uguale cosa sia successo da qui, analizziamo questo prezzo di mercato qui, da qui a qui, questo prezzo di mercato è un ciclo, è un ciclo, lasciamo stare anche l'indicatore, se venne l'indicatore sotto dava la partenza di un ciclo e la chiusura di un ciclo. poi, che qui sappiamo che siamo in un ciclo 4 perché il detector va giù, questa è un'altra cosa, ok, così spiego anche un attimino questo indicatore di nuovo, che così, Umberto, visto che vi ringrazio molto dei complimenti, è veramente molto carino. Allora, siamo in un ciclo, uguale che ciclo sia, possiamo anche senza indicatore capire che siamo in un ciclo perché il prezzo va sopra nell'euro dollaro alla media 12 periodi semplice, quando mi va sotto sta per chiudere un ciclo, ok, nel suo evolversi del ciclo, è chiaro che il prezzo può andare a ritestarla, a tornare sotto la media, uguale, non importa, il ciclo, fino a prova contraria, prendiamo la penna, cos'è questo? Ah, non ho aperto le... Ah, io ci sto parlando, non mi si sente? Scusatemi, mi potete di nuovo dare l'ok, mi sentite? A pezzi. Daniele mi sente a pezzi, vabbè, non ho dormito tanto bene, però proprio a pezzi non sono. Mi sentite male? Mi date l'ok? Eh, parlo, io parlo, sì dai. Non so, se mi date l'ok, Umberto, mi dai l'ok, Raimondo? Si sente bene? Ah, è ok, adesso è ok, allora niente, forse era soltanto all'inizio, ho spento Skype, forse nel momento che ho spento Skype se mi sentiva male. Ok, allora, torniamo a noi, avete sentito finora o devo ricominciare dal capo? Non penso di no, la lascio così, magari nella registrazione poi cercate magari quello che non avete capito. Comunque, nel frattempo, qui noi abbiamo un ciclo, con o senza indicatore ciclico avrei visto un evolversi. Se io vado a vedere qui dentro, le mettiamo altre due trallinette, le metto tratteggiate, con questo, guarda, non importa, bianche. Che cosa sono questi? Così vi faccio vedere una cosa che vi aprirà un attimino gli occhi a un po' tutti quanti sull'analisi ciclica, oppure anche no, non è detto che sia a tutti i costi una cosa che sia per tutti, però io ho trovato molto sollievo nell'analisi ciclica perché, non so, mi dà più sicurezza che l'analisi tecnica. Ok. Ah, questo è un ciclo 4, ho scritto ciclo 3. Ok. Non sempre una distribuzione regolare, stiamo parlando di distribuzione perché in un ciclo completo, prendiamo la penna un attimino, allora che è? Giallo? Ok. Nel ciclo che è partito qui ed è chiuso qui, in ogni caso qui dentro ho una distribuzione. Questa distribuzione, che adesso andremo a vedere, è cambiato il time frame, un attimino che... Te lo dico subito Umberto? Allora, è uguale se... Ho bevuto un po' d'acqua perché non so, ogni volta che faccio il webinar si viene mangiato qualcosina proprio per evitare di avere la spingola, non so. Allora, Umberto chiede perché parto proprio lì, parte lì per il punto 1, perché parte qui. Prima cosa, quando mi parte un ciclo, di solito, non sempre, però ho un'espansione long, espansione long. Secondo, lasciamo stare l'indicatore che magari non ce l'hanno tutti. Tu che c'hai l'indicatore puoi anche andare a vedere e vedrai che cosa devo fare, bere un po' di tè. Scusatemi, veramente. Non so, dovrò parlare col gatto prima di cominciare, non so. Ok, bene, allora, tu che hai l'indicatore puoi andare a vedere l'indicatore, hai l'indicazione in più. Chi non ce l'ha, questa media 12 periodi, che è una media ciclica giornaliera per l'euro-dollaro, quando il prezzo va sopra alla media è partito un ciclo. Quando il prezzo va sopra la media è partito un ciclo. Quindi qui, adesso non cerco la pena, non ci sta, però qui era il ciclo 3 e questo è il ciclo 4. Io lo so perché derivo da una distribuzione in chiusura, però questo potrebbe essere benissimo anche un ciclo 2, un ciclo 3, un ciclo 1, uguale che il ciclo 3. Noi stiamo parlando del ciclo in generale. Quindi, qui quando mi parti di nuovo e mi va sopra la media di nuovo 12 periodi, cos'è? può partirmi un altro ciclo. Quindi potrebbe essere questo un ciclo e questo un altro ciclo, come potrebbero essere entrambi un ciclo intero e questo qui il mezzo ciclo. Quindi mi tratto la mia trendline e qui avevo anche lo sort predefinito. Poi lo andiamo a vedere magari nell'altro grafico che ho già tutto segnato. Ok, torniamo a noi. Qui ho la partenza di un ciclo, qui ho la chiusura perché da qui mi parte un altro ciclo. Anche perché se la chiusura è un minimo relativo che mi deve tenere diverse ore per essere il minimo di partenza. Se adesso questo minimo qua dopo due ore viene rotto di nuovo vuol dire che è la continuazione del ciclo. Ok? Quindi ho questo minimo qui dove so che è partito un ciclo. Adesso io però ho il time frame orario e questo qui uguale che ciclo sia è un ciclo. Già ad occhio così posso vedere che qui è partito un altro ciclo, qui è partito un altro ciclo e qui è partito un altro ciclo. Se io divido questo time frame in 15 minuti che poi come di mio metodo o come sono ordinati nei grafici ho diversi grafici già pronti, quindi avrò qui i 15 minuti per esempio dove potrò andarmi ad analizzare la mia analisi. Però adesso passiamo soltanto da questo che ho già segnato e lo metto sui 15 minuti. Andiamo a vedere se mi ha lasciato tutto segnato. E' qua. Vediamo. Allora, chiaro che la divisione del time frame orario ai 15 minuti ho per ogni candela 4 ore. Quindi se il minimo di partenza era questo, sui 15 minuti mi varia un attimino. Uguale, non importa. Comunque sappiamo che questo minimo qua, che è il minimo 1,25 e 64, se io traslo di nuovo sull'orario, 1,25 e 64, andiamo a vederlo, 1,25 e 45. Giusto? Perché succede questo qui? Perché nel time frame a 15 minuti me lo divido in 4 candele. Quindi, più o meno in quella zona lì troverò il mio minimo. Buono. Ritorniamo dove ho già segnato tutto. Vediamo come qui l'evoluzione del ciclo 1, 2, 3 e 4 è una distribuzione completa. Andiamo a vedere se l'indicatore sotto ha segnato la stessa cosa. Adesso, per chi non ha l'indicatore, un attimino può bastare perché sto facendo vedere la caramella e non gliela do. Per carità, io ci ho lavorato tanto, tanto, tanto su questi indicatori e c'è tutto quanto il percorso sotto. Però, con o senza indicatore lo si può usare, lo stesso il metodo ciclico. Ok? Allora, ciclo 1, che si è partito qua. Ma, vi ripeto, c'è questa discrepanza del time frame a 15 minuti, quindi il ciclo è partito qui, esattamente in questo punto qui. Primo ciclo, prendiamo la penna così lo vediamo meglio. Da qui, primo ciclo, secondo ciclo, terzo ciclo, quarto ciclo. Sempre la linea bianca. Distribuzione, che è partita qui, confermata qui, qui conferma la chiusura e qui va a chiudersi, mi fa con il detector, che serve questo indicatore qui, una distribuzione completa. Quindi, vuol dire che qui dentro, in una distribuzione, io devo avere i miei quattro quarti, o i miei quattro cicli. Questi quattro cicli, cosa sono? I quattro quarti del ciclo a un'ora. Penso che, come spiegazione, torniamo sull'orario, come spiegazione ci siamo. Ok? Chiaro che ha tutto quanto la sua logica. Adesso, per esempio, qui. Torniamo qui. Noi sappiamo, passiamo nell'altro conto, che questo, così ce l'abbiamo già segnato. Ok. Noi sappiamo che qui, ciclo 1, che poi l'abbiamo spiegato l'altra volta, forse era finito qua il ciclo 1, questo era il ciclo 2, questo è il ciclo 3, il ciclo 4, uguale. Non importa quello che è successo in passato. La mia analisi la vado sempre a rivedere. Ok. Io ho la distribuzione a mio favore, che poi vi faccio vedere una tecnica molto, ma molto più semplice per tradare una distribuzione senza basarsi su nessun altro indicatore, nonché sui pivot point. Quindi la potete fare anche soltanto nel contesto di un trend long o di un contesto di un trend short. Ok. Io ho la mia distribuzione, questa linea blu che va su e va giù, il detector, qui dentro i miei quattro quarti. Quando la distribuzione è qui sotto, cos'è preferibile? Andare long o continuare a cercare gli short? Se io devo fare degli intraday, cercherò i long. Perché so che quando un ciclo 4, che quando mi ha fatto una distribuzione completa a quattro quarti, il ciclo 5 o il ciclo che non esiste, il ciclo in più, è molto, ma molto, ma molto raro. Quindi di solito dopo il ciclo 4 mi parte il ciclo 1. Cos'è che deve fare il ciclo 1? Domandina? Visto che siete tanti, che avete già questo indicatore, vi faccio la domandina. Poi ve la spiego. Perché so che mi deve partire un ciclo 1? E perché... Sì, Umberto? Scrivimi anche il periodo, che così lo so, che hai capito giusto? No. Sbagliato. Non deve salire sopra la media 12. Sopra la media 12 mi parte un ciclo. Però non so ancora quale ciclo sia, se sia il ciclo 1 o il ciclo 4 o il ciclo 3. Mi parte un ciclo in generale, perché è una media ciclica. Ma se io faccio il ragionamento della media 12 periodo per un ciclo giornaliero, siccome un ciclo giornaliero, per essere frattale, una distribuzione deve contenere 4 cicli. 4 cicli giornalieri sono 4 volte 24 ore. Prendiamo l'orario a 24, io lo potrei fare anche a 26, lo potrei fare a 28. Però lo lasciamo a 24 perché da un punto... devo avere un punto di partenza. Ok. Dal punto di 24 ore, se io lo moltiplico per 4, cos'è che mi dà? 96. Se io divido questo 96 e voglio la media, cos'è che mi devo trovare? 48. Quindi, quando è che mi deve partire il ciclo 1? Cos'è che deve andare a fare? Deve andare a toccare o a tagliare a rialzo la media 48. Quindi, quando io sono nel ciclo 4, cosa succede alla media? Che è un indicatore che mi arriva sempre in ritardo perché automaticamente la media semplice addirittura è più in ritardo della media esponenziale, mi arriva in ritardo, quindi mentre il prezzo scende perché deve andare a fare la sua chiusura ciclica o la chiusura di una distribuzione, arriva giù, si avvicina al prezzo e di solito il ciclo 1 mi va a toccare la media 48 oppure me la taglia a rialzo. Giusto? Ok. Che adesso qui? L'indicatore ciclico. Si stia sballando? Parola proprio contestuale, si stia sballando? E' un motivo perché sto facendo delle prove, quindi ogni tanto troverete magari chi è soltanto in versione tria, gratuita, che io sto facendo degli esperimenti per riportare delle migliorie all'indicatore. Cosa vuol dire riportare una miglioria all'indicatore? La devo aggiornare al momento, l'euro dollaro, la devo aggiornare praticamente come il mercato si va a evolgere perché il mercato non è sempre uguale. Ok. Adesso lasciamo stare l'indicatore. Andiamo a vedere una cosa. Senza guardare l'indicatore, perché voglio dare a tutti quanti l'idea che non è obbligato usare l'indicatore, si può stare anche senza. Allora, andiamo di nuovo qui. Time, freno, orario. Ok. Noi sappiamo che qui si è chiuso un ciclo, quindi qui mi deve partire un altro ciclo. Dove è che va a chiudersi questo ciclo qui? Senza guardare l'indicatore. Vai giù. Indicatore. Nasconditi. Dov'è che mi va a chiudere una distribuzione? O scusate, un ciclo. Se mi è partito qui. Mi va a chiudere qui dove sta scendendo? Implementiamo un altro discorso. Se io so che un ciclo... Vediamo se mi rimane la penna qui. Ok. Se anche un ciclo abbia la sua M ciclica. Ecco, vediamo che... Ok, partiamo con questo qui. Allora. Spero di rendere l'idea un po' a tutti quanti. Allora, l'immaginazione è la questione che noi dobbiamo immaginare un grafico per prevederne il futuro. Prevedere come andrà a evolversi il mercato in quel momento. Allora, se io ho qui, prendiamo la penna nera. Ok. Se io ho qui un ciclo che si muove così, no? Questa è la penna del programma, non mi piace. Se io ho un ciclo che si muove così. E qui dentro cos'è che ci dovrò trovare? Una M ciclica. Quindi la prima gamba, la seconda, la terza, la quarta. In un ciclo laterale. In un ciclo rialzista, che è così, dovrò trovare anche qui la prima gamba, che sarà di solito più lunga perché l'espansione è più lunga. La più corta, il mezzo ciclo, un'altra lunga e un'altra corta. Per una distribuzione rialzista avrò all'interno questa M ciclica. Per una distribuzione ribassista, disegniamola così, avrò la prima gamba corta, la seconda più lunga, la terza più corta e la quarta più lunga. Così devo immaginarmi che all'interno di un ciclo ci sia una distribuzione, una M ciclica laterale, rialzista o ribassista. Cos'è che caratterizza il movimento ciclico rialzista o il movimento ciclico ribassista o il movimento ciclico laterale? Guardando questi tre tipi di M, cos'è che io mi salta all'occhio? Niente perché devo fare un attimino di riflessioni. Ok, a parte che vi ho detto che sulla M ciclica rialzista la prima gamba è più lunga, la terza gamba è più lunga, sulla quella ribassista è una gamba più corta, una più lunga e una più corta. Quindi la prima e la terza sono più corte rispetto a questa e questa. Su quelle laterali, la prima e l'ultima sono più o meno nella stessa zona, perché devono chiudere più o meno nello stesso punto. Se io vado a guardare però con un altro occhio questa evoluzione, avrò il massimo assoluto, quindi il massimo di questo ciclo, più spostato verso destra quando è rialzista, più spostato verso sinistra quando è ribassista, doppio massimo quando sono laterali. Ok? Quindi è chiaro anche questo? Spero di sì. Quindi, torniamo a noi, diamo la penna, in base di questa cosa, ok. Bene, adesso io qui, torniamo, facciamolo con questo così rimane fermo. Da qui mi è partito un ciclo, da questo punto qui. Posso andare fino a qui e tracciarmi la prima gamba. Posso tracciarmi questa altra gamba e ho una prima gamba e una seconda gamba di un ciclo. Va bene, può essere così. Posso tracciarmi la prima gamba, posso tracciarmi la seconda, posso tracciarmi la terza e posso tracciarmi la quarta. Ok, adesso, si vedono? Penso di sì, no? Cos'è che io vado, scusatemi, a trovare disegnandomi queste eme cicliche? Fino a qui sono nel massimo assoluto, quindi da qui ho una gamba lunghissima. Però nel frattempo lui mi ha già fatto un eme ciclica interna. Conto un attimino le ore, per esempio, fino a qui sono 33 ore, fino a qui sarei ancora in un ciclo lunghissimo 56. Non voglio fermarmi nei periodi che una volta analizzavo anche contando le ore e avevo trovato anche un riferimento temporale. Però vorrei soffermarmi un attimino nella visione. Se io so che dalla ripartenza di un ciclo il prezzo mi va sopra la media 12 periodi, posso dare per scontato che qui mi sia finito un ciclo. Ok, qui, mettiamo, uguale, lo facciamo così così si vede meglio. Qui ho il mio ciclo. Che ciclo è questo? È il ciclo 1 perché io derivo da un ciclo ribassista di un minimo relativo. Quindi se noi cambiamo di nuovo sul conto andiamo qui. Se vuole, ci avevo bloccato un attimino, aspettiamo un attimino, si ricarica. Ecco qua. Ciclo 4, ciclo 1 in partenza. Ok. Cosa è che io devo andare a vedere quando mi è partito il ciclo 1? Che secondo me è finito qui. Che il ciclo 2 ha fatto la sua ripartenza. La prima cosa per entrare short sul ciclo 2 qual è? La rottura del minimo di partenza. Andiamo qui. Se qui mi è finito l'altro ciclo Oh, scusate, l'avevo già segnato. Ok, mi è partito il rischio al minimo lì. Qui. Quando il prezzo mi va qui sotto vuol dire che mi ha rotto un'azione ciclica. Mi ha rotto questo minimo qui. Quindi da qui la mia visione per tutta la distribuzione è short. Andiamo a vedere come è messo il detector. Più in là mi parte il detector cioè più in là mi da la conferma della distribuzione che non l'ha ancora data ma è qui è imminente a dare la partenza più in là me la da più ho io la possibilità di capire che la distribuzione sarà ribassista. Quindi la distribuzione è partita qui il detector è già sul ciclo 2 però non è ancora arrivato sopra potrebbe farlo nella partenza del ciclo 3 o durante il ciclo 2 la conferma di partenza. Più in là me la fa già che l'evoluzione ciclica della prima parte della distribuzione che noi sappiamo che sulla prima parte della distribuzione quindi ciclo 1 e ciclo 2 andiamo long e ciclo 3 e ciclo 4 andiamo short sappiamo già che siamo già nella seconda parte della distribuzione quindi andremo a cercare più che altro gli short perché la prima parte della distribuzione che è questa è il long la seconda parte è lo short già rompendomi questo minimo qua in questa zona qui la distribuzione diventa negativa quindi io mi aspetto sempre dal livello grafico sempre dal livello di analisi ciclica una distribuzione ribassista che poi adesso parli Mario Draghi o esta qualche notizia chiaro che tutto il mercato viene rianalizzato non c'è niente di sicuro non c'è un'analisi che può dirti che è sicuro ok a questo punto vorrei soltanto introdurre una cosa se io adesso devo fare visto che ho tutte le domande dov'è che devo inserire lo stop? lo stop loss lo devo inserire sempre nel massimo precedente nel minimo precedente se io devo andare long perché so che qui mi è finito il ciclo 4 devo andare sul ciclo 1 posso entrare long da situazione ciclica qui comunque potrei anche se sono già qui il prezzo su questo massimo qui breakout di questa zona posso entrare long dov'è che va messo lo stop loss? qui in questa zona qui perché qui non mi prende perché se mi prende più vuol dire che ho sbagliato l'analisi dov'è che prendo profitto? quando mi da un tot il doppio della mia posizione quindi da qui la penna maledetta che non si ferma qui era il long e qui è lo stop loss quindi avrei 1 su 1 che va benissimo ogni volta che io entro in una posizione short magari qui adesso su questo minimo qui dove avevo detto che si potrebbe entrare non voglio rischiare tanto mi metto lo stop loss qui su questa candela però il problema è che se io entro già su questa candela qui mi metto lo stop loss qui potrei subire un piccolo rialzo per poi scendere ancora perché l'evoluzione ciclica mi va a prendere un mezzo ciclo per poi ripartire e poi scendere ancora ok? quindi lo stop loss anche se entro qui per fare pochi pips preferisco metterlo qui poi se il prezzo mi da 10-15 pips anche se lo stop loss era più ampio da intraday lo posso chiudere ok? bene adesso vi faccio vedere un'altra possibilità di fare trading con i punti di pivot devo togliere la penna sì ok prima un attimino mi bevo un gocettino di te ok sui punti di pivot con un contesto short o in un contesto long prima cosa torniamo sull'altro conto alziamo l'indicatore lo sistemo di nuovo come l'ho messo ok un attimino vorrei vedere se vi posso fare un esempio ok questa distribuzione qui per esempio che parte qui e finisce più o meno allo stesso punto è una distribuzione laterale guardate come l'indicatore sotto si mantiene veramente quasi sul massimo qui in alto quindi sulla parte centrale della distribuzione si trova anche la parte centrale dell'indicatore quindi è per il momento proprio posizionato molto bene vedete invece qui che la distribuzione rialzista quindi questa distribuzione che è partita qui è andata a chiudersi sui massimi dal minimo di partenza l'indicatore sotto ha fatto la sua conferma già nel ciclo 2 se invece me l'avesse fatta nel ciclo 3 e così vuol dire che è ribassista andiamo a vedere questa qui è una distribuzione minore è un brutto esempio distribuzione laterale è la stessa cosa di prima niente non trovo altri esempi distribuzione ribassista distribuzione ribassista eccola qui ciclo 1 ciclo 2 ciclo 3 ciclo 4 ok l'indicatore della distribuzione ciclica vedete che qui ha cercato di partire debole qui ha cercato di partire ed è andato sul ciclo 4 a farmi la conferma quindi mi ha confermato che è in una distribuzione ma proprio alla fine dove era già arrivato per chiudere quindi come come divergenza questo indicatore potrebbe funzionare ma molto ma molto bene però una divergenza contraria negativa perché se il massimo di un qui così ve lo disegno sul massimo di una distribuzione uguale anche se è giallo su una distribuzione rialzista ho il massimo qui su una distribuzione ribassista ho il massimo spostato verso sinistra sull'indicatore ciclico quando una distribuzione ribassista avrò un'evoluzione così se una distribuzione invece è rialzista cosa succede che l'indicatore mi parte subito al rialzo e poi va a chiudere così ok quindi ho una distribuzione ribassista con la partenza dell'indicatore ciclico della distribuzione ciclica molto più spostato verso destra al massimo del ciclo il massimo del ciclo di tutta la distribuzione completa ok adesso non vi voglio più parlare dei cicli perché sennò vi è troppo la testa e non è neanche giusto tutto in volta ok torniamo a noi come posso tradare con o senza questo indicatore prima mettiamo inseriamo il pivot non so se ce li ho in questo conto si ce li ho ok perfetto inseriamo il pivot normalissimo uguale che il pivot basta essere il pivot da inserire ok uso questo conto perché non ci sono tanti ordini dentro quindi sta ho l'idea un attimo un po' più chiare ok andiamo avanti in un contesto vediamo se riesco a farvi un esempio più sensato ok partiamo da qui anzi parto da qui così per essere più frattare quindi da dove l'indicatore è sotto e mi va verso sopra questo indicatore qui e mi va verso giù se io non ho questo indicatore qua adesso andremo a vedere come potremo farlo con un altro indicatore la stessa la stessa strategia allora quando l'indicatore è sotto e mi deve andare qui nel culmine nella parte più alta io cercherò su ogni punto di pivò vediamo se riesco a segnali così così mi rimangono ogni punto di pivò cercherò una posizione long senza guardare neanche il dato senza guardare neanche il ciclo senza niente long ok? e adesso io vi chiedo cosa devo fare quando arrivo qui in alto allora io qui ho tre posizioni long una su questo pivò una su questo pivò e una su questo pivò che siano pivò centrali cioè medi o che sia un supporto o una resistenza data da un calcolo del pivò è uguale non me ne può pregare di meno dov'è che prendo profitto io su queste posizioni? uno due tre allora uno poi conoscendo l'andamento ciclico ancora meglio quindi una preso qui 33 pips una presa di nuovo quando il prezzo scende va sotto il pivò se andavo a toccare qui la compravo qui è tornata su la compro qui 60 pips bene il prezzo scende ancora lo potrei o ricomprare di nuovo su questo pivò perché intanto mi deve andare comunque a toccare l'altro pivò quindi avrei un'altra ulteriore posizione fino a qui e qui aggiungiamo un'altra operatività un'altra operazione bene il prezzo va giù non mi va a toccare il nostro pivò e arriva qui in alto se questa qui me la sono già chiusa qui non potrei aprirne altre quindi questa qui la tolgo non esiste perché adesso qui io non devo più comprare domanda perché non devo più comprare visto che siamo in un contesto long perché è finita la festa è finita la festa di andare long prima o poi il prezzo essendo una distribuzione ciclica quindi la prima parte è long la seconda parte è short andrà a fare la sua chiusura qui adesso cos'è mi giro l'idea di entrare sui pivò ok buono indicatore sempre qui sotto quando l'indicatore incomincia a andarmi sotto la linea dell'85 quindi qui io incomincio a venderlo sui pivò una posizione bene facciamo già la presa di profitto è questa sull'altro pivò devo avere lasciare sempre aperto poi vi faccio vedere anche dove metto gli stop ok altre operatività per andare short sì più che altro Daniela vendo quando il prezzo tocca il pivò o comunque quando il prezzo con un ordine pendente già predisposto ancora meglio perché non devo neanche stare davanti al computer e poi vi spiego vi faccio adesso la domandina la domandina tra bocchetto che poi a fine tra mezz'oretta quando finisco il webinar ve la rifaccio nel frattempo potete darmi le risposte ricordatemi di chiedervelo di nuovo qual è il miglior trade che uno può fare la domanda tra bocchetto qual è il miglior trade che uno può fare o che uno fa qual è il miglior trade che si fa oppure quando si fa il miglior trade bene poi vi do la risposta dal mio punto di vista ok allora ho sbagliato questa qui questa buono adesso qui ho preso un'altra il prezzo va giù siamo sempre nella distribuzione in chiusura io qui posso vendere di nuovo ok perfetto andiamo avanti la distribuzione qui era ancora in chiusura quindi io da qui devo vendere buono presa di profitto sarebbe l'altro pivot buono andiamo avanti ci mettiamo una regola prima cosa dove devo entrare e dove devo mettere lo stop loss quando io entro long e quando io entro short se io entro long per esempio qui lo stop loss è sul minimo precedente quindi è uno stop loss ciclico senza conoscere i cicli ok quando io entro di nuovo qui per entrare long quindi sono entrato in questa zona qui dov'è che mi devo mettere lo stop loss allora se voglio essere se voglio essere frattare con i cicli lo metto sempre sul minimo precedente quindi questa prezza qui è entrato qui il prezzo lo stop è il minimo precedente è questo volendo lo potevo mettere anche su questo rimane a me l'idea dove e come lo devo fare quindi lo posso mettere qui entro long su questo entrata long qual è lo stop loss il minimo precedente quindi o è questo o comunque lo posso mettere sul minimo ancora prima rimane a me come farla bene io posso entrare long adesso con la tecnica sopra la media 12 periodi o sulla tecnica del pivot io preferisco entrare nei pivot perché il pivot in un contesto rialzista romperà ogni resistenza però viene supportato dai supporti quindi il prezzo quando va giù mi tocca un supporto quando il prezzo va giù tocca il supporto me lo rompe fa saluttura e torna su quando va giù torna il supporto me lo rompe fa saluttura e torna su e così via è nel contesto long nel contesto short il prezzo tenderà a scendere rompere un supporto andare a ritestare una resistenza andare a toccare di nuovo un supporto andare giù venire a toccare di nuovo una resistenza e di nuovo scendere ancora ok adesso andiamo a vedere che cosa avrebbe portato questa operatività da qui entrati fino a qui 30 pips te lo dico subito Umberto allora se io devo fare intraday per esempio la prima operatività che ho fatto che sono entrato qui il punto di pv del giorno dopo non ce l'ho quindi sarei qui cioè una volta che io sono entrato su questo punto qui e sono arrivato a fare 60 pips in una posizione intraday è una signor posizione l'ho già chiusa a 30 pips secondo me vanno già più che bene allora una media di una candela daily è di 15 pips 20 pips 18 pips mi pare che è la media quindi già quando una candela mi fa 30 pips o una posizione mi fa 30 pips vuol dire che prima o poi ci sarà un ritracciamento quindi preferisco quando io sono entrato qui e la candela già mi va a 39 pips già qui ho preso profitto non sto a aspettare qui non vado neanche a aspettare che sia che arrivi qui a mezzanotte dove poi il prezzo mi chiude no e non aspetto neanche il pivò del giorno dopo quindi per la prima operatività l'avrei già chiusa qui uguale adesso noi facciamo un test quindi la prima operatività da pivò quindi sono 30 pips prima seconda operazione fatta da qui 60 quel take profit già preimpostato l'avrei fatto se già è arrivata qui a 40 posso dire a 40 già me la chiuso per evitare questa cosa qui per ritornare su quindi per evitare che mi vada su di 50 pips per poi tornare giù mi metto la regola che a 30 già mi metto lo stop a pari mi metto un trailing stop quindi il massimo che vinco o che perdo scusate sarà inferiore al cioè il massimo di guadagno che faccio è 30 e tutto quello che viene è un regalo in più quindi metterò un trailing stop che non so a 15 step oppure metterò addirittura uno stop un break even a 30 quindi se il prezzo mi ritorna a 30 mi prendo i miei 30 pips questa deve essere una regola buono ok qui entro di nuovo e altri 40 pips sul pivò se poi vedo che con la prima candela non ci arrivo mi fa 30 mi prendo 30 quindi una regola di 30 pips per esempio un esempio soltanto 30 con la prima 30 con la seconda 30 con la terza in due giorni 90 pips con questa tecnica di andare long allora adesso vi voglio far vedere qualche indicatore di base sul metatreda per fare dell'operatività senza usare i miei indicatori poi sulla seconda parte della distribuzione per chi già come te Umberto come Marco e tanti altri che usano questo indicatore qua posso basarmi senza guardare nessun ciclo quando la distribuzione è qui sotto mi vendo dal pivò tecnica vorrei dire alquanto infallibile a meno che non venga fuori Mario Draghi o che venga fuori qualcuno con delle notizie ma nel frattempo mentre loro sono calmi non dicono niente mi faccio mi faccio la mia operatività quando lui parla che io so che domani o dopodomani per esempio mi parla Rayel oppure mi parla Mario Draghi non farò più questa operatività perché potrebbe essere in un attimo una cannera così per poi tornare in giù oppure cosa faccio voglio rischiare diciamo qualcosina e mi vendo su ogni pivò o compro su ogni pivò in base alla distribuzione ok o comunque in base a una distribuzione maggiore potrei andare sul 4 ore anzi facciamo così potrei andare con questo time frame qui sul 4 ore e farmi un'operatività addirittura ancora più ampia sul 4 ore ho la mia distribuzione che qui è rialzo da qui è rialzo fino a qui quindi da qui in poi mi cercherò tutti i long da qui in poi vedo già qui che già si gira diventa debole quindi da questo punto qua dove la candela va sotto la media 12 mi cercherò su tutti i punti di pivò solo posizioni sort anche quando parla Mario Draghi le più delle volte avrò ragione ok adesso andiamo a vedere un indicatore da abbinare a questa operatività senza usare questo indicatore qui allora come lo potrei fare vi dico la verità che adesso sto andando un attimino alla ceca per dare un'idea oscillatore stocastico che vanno sempre bene diciamo di per comprati per venduto lo mettiamo a un periodo no cosa ho fatto questo non è e lo metto una media 48 vedete che già l'indicazione è molto più diversa però vabbè si può anche dare l'idea perché se andiamo a vedere su questo minimo e su questo minimo avrei magari all'interno di tutta questa storia una distribuzione ebbene ben che venga lo posso usare da qui cercherò tutti i pivot in long l'unica cosa è che la differenza da questo indicatore dal mio che logicamente quando si tiene sempre nel liber compratto non ho più da qui praticamente già avrei l'idea di cominciare a vendere oppure da qui cominciare a vendere ma lui continua a salire per quello vi dico che nell'indicatore non per adesso per cercare di fare pubblicità e di voler venderlo perché ve lo dico sinceramente sto seguendo tantissimi ragazzi e ragazze e quindi piano piano non ho neanche più il tempo veramente di mangiare a volte quindi non ho bisogno di fare pubblicità al sito non mi trovate su youtube non mi trovate mail che vi faccio propaganda non lo faccio perché veramente è una cosa diciamo fatta per i pochi voglio che rimanga per i pochi alla fine sono andati tanti va bene per carità è un introito in più non nascondo questo ma se andate a vedervi nei primi decisioni gratuiti vi leggete anche il contributo del sito c'è un motivo perché perché tutta l'unione del gruppo non è che lavoro solo su questo sito si lavorano due informatici si può chiamare così adesso non lo so come possiamo chiamarli due che si danno da fare sul metatreda uno che è proprio un genio che sa montare e smontare tutto il metatreda che lavorava prima per un broker quindi sa fare tutto quindi gli indicatori sono con degli studi molto più che vanno molto oltre alle mie capacità quindi l'introito di questo sito viene a pagare queste persone quindi vi dico soltanto questo qui poi io non ho bisogno io ho il mio trading e tutto il resto ma il sito è nato così ci sono anche dei segnali di trading c'è un po' di tutto ok però non è un sito che entrate vi trovate che ne so è il santo grail si vuole dello studio sotto per fare dello studio ci sono io che faccio come supporto come ho fatto con tanti ci si dà un appuntamento uno due tre quattro poi al limite si rimane su skype e mi fanno ma c'è cinque minuti da cinque minuti diventerò di solito un'ora perché io parlo tanto e mi piace spiegare le cose perché voglio che la cosa sia comprensibile per tutti deve rimanere veramente una cosa che il metodo siccome io non posso far apprendere il mio metodo uno su uno proprio uguale com'è perché ogni persona ha la sua emotività e lo dico sempre quindi non vendo un metodo vendo tutto un percorso di trading una formazione di trading ok che si protrae per anche uno due tre anni se ti è già abbonato da più di un anno e mezzo quindi c'è un motivo perché rimangono abbonati non solo per gli indicatori ma anche perché porta dei guadagni se io invece compro un corso di una strategia che mi costa mille euro lo compro e basta magari ho soltanto dei video registrati ho questa strategia magari abbinata con qualche indicatore bene il mio sito è a pagamento mensile ogni mese si può fare la distetta quindi alla fine lo provo uno due tre mesi se non mi piace lo lascio andare non ho perso niente secondo me è più produttivo così però vabbè vi ripeto non è non è una questione di pubblicità questo indicatore qui stoccastico che si potrebbe abbinare vedete anche voi che ogni volta che il prezzo va giù ti tenderei piuttosto a vendere che a comprare anche qui perché è un indicatore di aver comprato e aver venduto non mi fa un andamento così come lo fa la mezzaluna diciamo il mio indicatore questo qui mi fa tutta una roba del genere quindi dovrei andare a studiare magari adesso non so se io adesso vado a cambiare l'impostazione e lo stoccastico metto 60 per esempio vediamo cosa succede ma rimarrà sempre così quindi questo indicatore magari da abbinare non è tanto la cosa migliore andiamo a vedere se si potrà abbinare come si chiamava quell'indicatore lì vediamo il vigor il vigor ok mettiamo il vigor lo mettiamo ancora un po' più uguale vediamo cosa ne esce ok già il vigor ha una struttura un po' più predefinita vedete che già si avvicina molto di più al prezzo si attacca molto di più al prezzo lo studio dell'altro indicatore è stato fatto da questi due ragazzi da Alessandro e Gianluca gli ho sempre detto questi indicatori qua non funzionano perché hanno delle discrepanze perché io da qui anche se io qui potrei magari mettere dei livelli dentro vedete che l'indicatore non ha uno spazio che si muove da 0 a 100 o da 10 a 100 così però potrei mettere magari delle trend line qui dentro e devo darmi delle regole non so meno 15 a più 15 per esempio adesso facciamo ad hoc per non perdere tanto tempo e qua e 15 e 15 ok quando il prezzo mi va da qui verso l'altro potrei incominciare a vendere quindi da qui in poi incomincio a scusate a comprare da qui incomincio a comprare da qui invece incomincio a vendere però vedete cosa succede il prezzo continua a salire quindi mi continua ad andare su quello che io ho evitato in quell'altro indicatore è proprio questa cosa qui non sto salendo l'idea questa da mezzaluna questa non riesco a trovare indicatori che si che sono si assomigliano molto questo potrebbe già andare meglio dello stocastico però potrei fare un'altra cosa metto tolgo i livelli vediamo se potrebbe essere un'idea vado su inserisco un livello metto il livello a 0 me lo metto guarda lo lascio così e ho la linea centrale quindi quando il prezzo è qui sopra io compro quando il prezzo è qui sotto io vendo vedete che anche qui non potrebbe neanche servire perché avrei venduto qui dove già è la fine della distribuzione ok quindi qui devo implementare anche tanti altri discorsi tipo breakout di questa zona il pivot come resistenza e tutte queste cose qua che con l'altro indicatore ne le evito bene togliamo questo indicatore qua andiamo a cercarne un altro allora così che si impara in questo webinar visto che sono partito così a razzo senza farmi neanche tanti discorsi voglio che sia una cosa una riflessione non dovete stare lì a vedere le candele che vanno su e giù le posizioni che salgono e scendere e maledirvi perché avete sbagliato la posizione mentre avete una posizione in essere che è una posizione che non vi deve dare fastidio al conto che tutto deve essere regolare potete andare a fare i vostri test cercare i volumi magari no possiamo mettere dentro un william questa potrebbe essere l'idea andiamo su oscillatori questo non è un oscillatore però l'ho messo qui e william lo sento com'è che me lo posso calcolare partiamo da un 48 perché è quello che potrebbe essere migliore vedete che anche qui il william è arrivato qui non va bene perché tutta questa zona qui continua a salire dove io da questo punto qua incomincierei a venderlo ok qui mi ha fatto una falsa rottura qui mi ha fatto un'altra falsa rottura qui invece è andato bene potrei averlo venduto ok al limite con una linea al 50 qui si allora questa qui potrebbe essere un'idea vi ripeto stavo facendo un po' di riflessioni per farvi usare magari un indicatore che meno 50 quindi qui lo metto centrale ok in questa zona qui dove io ho già qui il prezzo mi è partito è sceso quindi la prima operatività la potrei aver fatta qui dal TV stop loss molto ampio take profit 30 pips come di solito 40 oppure il giorno dopo 60 bene cosa succede dopo all'indicatore il prezzo sale va a toccare questa zona qui che diventa nel contesto short una zona di resistenza nel contesto short i pivò diventano resistenza nel contesto long i pivò diventano dei supporti quindi in ogni contesto long quando mi tocca il pivò vado long in ogni contesto short quando il prezzo mi tocca il pivò io vado short perché diventa una resistenza notate come l'indicatore va nella parte centrale va qui e da qui io lo potrei aver venduto anche con questo indicatore vi ho dato uno spunto dove riflettere ecco buono andiamo avanti andiamo a cercare un'altra cosa non vogliamo lasciarla così finita vediamo che cosa potrei inserire ancora questo qui è una specie di vabbè andiamo a vedere come si chiamava l'emrcd cosa potrebbe essere vi dico che non ho mai usato questo indicatore però ci sono tre merie la 12 quella è importante la lenta questo 6 questo lo mettiamo a 3 questo me la metto a a 48 questo me la lascio a 12 vediamo cosa ne esce ok mi esce questa cosa qui bene questa qui potrebbe già essere una cosa un po' più funzionale perché potrei fare il minimo due operazioni in questo con questo indicatore vogliamo questi indicatori andiamo a vedere con l'emrcd cosa vuol dire io qui ho un punto molto basso quando il prezzo comincia a salire non lo compro lo compro però quando mi rompe questa zona qui la parte centrale del emrcd il classico mcdonald come lo chiamo io da qui io vado long ho l'occhio chiuso uguale posso andare long stop loss sui minimi take profit 170 pips ho un'operatività sola take profit 60 ogni volta che il prezzo mi rompe a ribasso qui di nuovo la classica zona di supporto o di resistenza so quindi qui potrei fare due operazioni in tutto questo contesto di 4-5 giorni ce ne ho due ok possiamo fare un'altra cosa cambiamo le impostazioni le mettiamo più veloci vediamo che cosa succede le mettiamo 6 anzi no prima vorrei fare una cosa 48 24 non cambia tanto ok andiamo a vedere allora questo qui la metto a 6 questa qui è 12 questa la lascio a 3 applicazione chiusa ok bene ok qui ho un attimino un po' un andamento ciclico che potrei anche implementarlo come ciclo perché qui mi parte un ciclo qui mi è chiuso un altro qui me ne parte un altro qui me ne parte un altro più basso si sfasano un attimino non essendo un indicatore ciclico si sfasano ma non importa cosa succede quando il prezzo va sopra qui io vado long quindi long da qui quando il prezzo qui va sotto vedete che qui sgarrerebbe perché da qui andrà in short mi prendere lo stop loss però da qui mi giro di nuovo long e mi vado a recuperare posso implementare questo indicatore con la media 12 periodi si lo posso fare quando il prezzo è sotto la media 12 periodi guardate come quasi quasi è la stessa cosa da qui andrà in short quindi più o meno in questa zona qui sarei entrato short e anche questo potrebbe essere un'idea bene abbiamo ancora un po' di minuti vorrei passare a un lasciamo anche tutta questa cosa qui a guardare un un fibonacci visto che ve l'ho detto prima lasciamo tutta l'impostazione così cerchiamo un fibonacci prima quello classico retracement da qui a qui ho questo massimo ok bene da dov'è che io lo vendo adesso ogni volta il prezzo quando il prezzo scende e lo vendo su tutti i punti del fibonacci quindi lo potrei avere qui non l'ho venduto perché è il punto massimo qui comincio a venderlo take profit sarebbe il prossimo fibonacci quindi questo il prezzo scende va su si avvicina al pivò non aspetto neanche che mi tocca lì lo vendo di nuovo la seconda operazione altri 34 pips da questa zona qui lo continuo a ottenere o lo vendo di nuovo altri 30 pips da qui va su mi ritocca di nuovo la zona di fibonacci che è il 50% me lo porto al 61 ok qui al 61 adesso dopo questa evoluzione qua potrei già capire che tutta la distribuzione ciclica o l'andamento ciclico da qui sia finito quindi da questo punto di fibonacci qui potrei farmi l'occhio e dire ok andiamo a vedere un attimino questo è un ciclo questo è un altro ciclo questo è un altro ciclo senza avere nessuna nozione ciclica io so già che 1 2 e 3 cicli sono passati questo è il 4 ciclo guardate come funziona l'analisi ciclica dopo che io so che i 4 cicli mi arriva il ciclo 1 sul punto del fibonacci da qui posso andare long mi piace questa questa potrebbe essere implementare i cicli con il fibonacci bene l'ho fatto per anni bene lasciamo stare l'analisi ciclica cerchiamo più che altro di implementare i pivò sul fibonacci cosa succede io da questo punto qui ho il fibonacci bene da ogni punto di pivò io lo vendo il prezzo scende questo non lo faccio perché è troppo fresco ancora vado giù da qui lo vendo scusate non lo vendo dal pivò bene lo vendo da questo pivò buono lo posso vendere mi avrebbe pagato 37 pips i classici 30 pips mi li porto a casa bene il prezzo torna sul pivò me lo vendo 70 pips i classici 30-40 pips me li sono portati a casa bene su questo punto di pivò lo vendo di nuovo altri 28 pips non aspetto più che il prezzo mi torna su per perdere quindi o lo stopo a pari o comunque qualcosa ne ho la porto a casa la regola di dire ok 15-20 pips me li porto sempre a casa mi porterebbe a fare dei guadagni anche con questa tecnica qua senza usare indicazioni solo con un fibonacci e con i punti di pivò quindi la risposta come abbinare un fibonacci una tecnica con il fibonacci la posso usare senza guardare nessun indicatore soltanto il fibonacci e i punti di pivò senza media e senza niente perché se io adesso vado a farmi un grafico nuovo vediamo se ci siamo a farlo vediamo se c'è dentro qui il formato neutro dovrei averlo neutro ok adesso è un grafico pulito andiamo a cercare la zona dove eravamo prima posso farlo anche su questa zona da questo minimo qui a questa zona qui ho il mio punto di pivò da qui cosa faccio o lo vendo come un fibonacci oppure cosa faccio inserisco i punti di pivò e non faccio altro che venderlo sui punti di pivò ogni volta che il prezzo io ho la mia espansione di fibonacci che mi è arrivata fino a qui quindi da questo punto qua io lo potrei vendere da questo pivò da questo pivò da questo pivò da questo pivò qui va su da questo pivò da questo pivò da questo pivò e così via giù fino a un certo punto però prima o poi mi dovrò fermare perché intanto so che prima o poi il prezzo reagisce tornando all'along quindi dov'è che io mi devo fermare? sul 100 di fibonacci per esempio quindi avrei fatto soltanto 1 2 visto che è andato giù così nel dato me lo attenevo 3 qui sono sotto il 100% vado giù vedo come si comporta qui su questo punto qua di fibonacci vedo come si comporta vedo che torna giù sul pivò cosa faccio? aspetto quelle 2-3 ore quando vedo che il prezzo è ancora lì su pivò io da qui lo vendo stop loss qui pivò 40 pips lo vendo siamo di nuovo sul 161 qui diventa già un allarme sono già oltre a tutto il fibonacci quindi mi fermo ok? bene penso che come webinar istruttivo può per dare un attimino l'idea a tutto penso che sia andata abbastanza bene allora io vi ho fatto una domanda qual è il miglior trade che si può fare? o qual è il miglior trade che si fa? non ho ancora visto nessuna risposta se no no proprio così la domanda è cosa? qual è il miglior trade che uno fa? lasciando le emozioni a parte sì questo qui è un componente del trade chiaro il componente del trade è non metterci l'emotività se non metti l'emotività fai il miglior trade quando è che non metto l'emotività? quando non sono davanti al pc per esempio quante volte è capitato avere un trade che si sta pagando 60 pips e poi alla fine magari anche addirittura chi è all'inizio lo chiude anche in perdita perché ha visto i 60 pips e ne vorrebbe prenderne il minimo minimo i 60 che aveva già visto ok? quindi se io non sono davanti al computer è il miglior trade che posso fare perché se io mi metto per esempio un'operatività che da qui sono entrato short non sono davanti al computer qui mi metto il take profit non avrei notato questa cosa qui quindi da qui a qui mi sono portato a casa 37 pips perché non ero davanti al computer però se qui non ho messo il take profit il prezzo saliva di nuovo lascia stare che poi tornava giù tante volte un'operatività per esempio vorrei fare un esempio giusto ok da qui io ho messo una posizione long da questo pivot a questo pivot quindi da qui sono entrato per i propri 36 pips il prezzo avrebbe pagato di più e se da davanti al computer avrei visto i 60 avrei visto tornare giù massima adesso poi riparte me ne da 100 invece il prezzo stava lì ma ne avevo visti 60 e il prezzo torna giù ok quindi non sono davanti al pc torno a casa mi ha fatto 40 pips guardo le candele che vengono dopo guarda che fortuna perché sennò mi avrebbe anche preso lo stop loss per fortuna che ho messo il take profit questo è il miglior trade che uno può fare dal mio punto di vista poi magari mi posso anche sbagliare e sto dicendo una una cavolata però secondo me nel punto di vista il miglior trade che io faccio o che ho fatto o che farò è sempre il trade quando io sono fuori di casa e ho messo il take profit che poi il prezzo mi avrebbe dato 100.000 pips al porto di avermi date solo 30 quello è una cosa che io vedo dopo che il grafico è fatto è una cosa che vedo soltanto quando mi capita però la cosa che magari da qui sono entrato long e qui ho preso il profitto e il prezzo magari andava fino a qui la vedo però se il prezzo poi scende mi do la pacca sulla spalla e dico ah ma per fortuna ho messo il take profit però questa cosa qui non la vedo quasi mai io vedo soltanto la cosa negativa come avrebbe pagato di più ma l'importante è avere una costante operatività costante di un tot di pips giornalieri o settimanali che non avere una un'operatività praticamente che una volta mi da 100 e due volte dopo mi da me ne perdo 200 esattamente esattamente non è giusto e a parte che non è neanche non fa parte neanche del trading stare 10 ore davanti al monito non fa parte del trading il trading cos'è cos'è la scelta la pubblicità che propongono per esempio le opzioni binarie che ti propongono tra parentesi dal punto di vista mia non è una pregatura per carità tutto è possibile però dal punto di vista mia mio è più una pregatura che che altro fare trading è già più un attimino con buon senso lo si può fare veramente diventa una cosa interessante ma la pubblicità che fanno sia broker che sia sulle operazioni binarie che sia sul trading è fai il trading fai il trading diventa trader con poche ore al giorno guadagni i tot questa è l'idea ma questo qui è il trading io ho un amico mio uno dei migliori trader tedeschi sebbene lui è italiano perché è nato in Italia però è cresciuto qui in Germania come me è arrivato all'età di 12 anni Giovanni Cicivelli lo potete anche trovare in internet lui è un trader su azionario fa soltanto arbitraggio di borsa lui lavora un'ora al giorno massimo due a volte ritorna al pomeriggio ne lavora 3-4 e io non vi dico cosa lui guadagna in un mese perché ve lo potete immaginare ma lui lavora mezz'ora sposta da una parte e dall'altra su diverse borse gli stock di azionari che compra e poi se ne va via basta finito quel lavoro lì è il suo lavoro arrivare a questo punto qui quello lì è fare trading mi sono guadagnato quello che ho guadagnato per oggi basta perché più tempo stai davanti al computer più ne perdi tu devi fare la tua operatività poi se tutto se sei con posizioni in essere che ti stanno portando dei guadagni inutile chiuderle magari metti lo stop a pari le lascio correre se sei a posto esempio per esempio vediamo su questo no vabbè potrei anche su questo punto qui doveva ok sterlina dollaro daily contesto che ha rotto vediamo se l'altro conto se lo vedo meglio l'1,60 qui l'1,60 dopo tanto tempo che l'1,60 vediamo se dobbiamo vederlo meglio aveva tenuto quindi in questa zona qui l'1,60 aveva tenuto una volta che ha rotto questa zona qui dell'1,60 più giù qui era da entrare solo qui in questa zona qui uguale se lo stop loss era ampio l'1,60 la rottura di questa zona qui mi chiamerà un minimo inferiore anche a questo quindi in questa zona qui non è da da tenere il prezzo 1,58 magari se mi rompe questo ho la volta buona che me lo portano proprio a basso quindi in questa zona qui di questi 170 pips devono cominciare a prendere profitto quindi questo è un trade che posso lasciar correre quando io il mio trade lo lascio correre sono contento perché intanto mi può solo pagare di più lo stop è a zero non devo stare lì a guardarmi questa candela che scende che sale non me ne deve fregare proprio niente che poi vado a vedere magari nel contesto nel contesto mensile qui non l'ho segnato ma qui mi chiude un mese questa e anche qui ritorniamo a noi guardate cosa succede prima gamba seconda gamba terza gamba la prima gamba è corta la terza gamba è corta com'è che deve essere la quarta gamba così così è la chiusura mensile ciclica dal punto di vista di una m ciclica ho reso l'idea quindi non posso fare altro che aspettare perché tanto se questo qui è il mio mezzo ciclo per essere una m ciclica che ve l'ho già spiegato deve andarmi a fare un nuovo minimo rispetto a questo che poi mi lo faccia di pochi pips o come lo faccia di tanti pips questo è un altro punto di vista ma visto che rompendo questa zona qui che è una zona di resistenza scusate di supporto quindi rompendo questa zona qui che è una zona di supporto automaticamente cosa succede in un contesto short i supporti vengono infranti e le resistenze servono per essere vendute infatti questa zona qui che era un supporto qui questa linea verde qui è stata rotta come supporto è stata ritestata e qui adesso io posso cambiare colore nell'altro punto non lo potevo fare diventa una zona di resistenza quindi in questa zona qui quando il prezzo va su e mi torna sotto da qui era da vendere ok bene ok il webinar di oggi finisce qui qualche spunto di riflessione qualche punto per fare trading ve l'ho dato spero che vi sia piaciuto come webinar non sono passato alle slide proprio per evitare di fare sempre la cosa monotona o fare soltanto teoria i miei webinar sono così quindi spero che vedo che anche dei ringraziamenti che mi fanno sempre piacere anche dei complimenti che vi è piaciuta anche l'idea dei pivot ma potete anche veramente implementare qualsiasi altro indicatore anche una media mobile implementate due medie mobile sui pivot potete fare magari un'idea metto una media mobile a 60 periodi lo facciamo dai vediamo che cosa succede per farvi un altro spunto operativo togliamo il fibonacci che intanto l'abbiamo visto bene o male il fibonacci può essere questo ma il fibonacci può essere anche una zona di espansione ma l'espansione l'altro fibonacci di espansione che è questo molto pratico perché se io ho un'espansione tipo da qui a qui posso tirarmi da questo punto qui a questo punto qui aspettate un attimino che sto andando al contrario come faccio girarmelo adesso me lo porto su da questo punto qui a questo punto qui non andando a farmi un nuovo massimo quindi mi fa un massimo qui da qui ho le mie entrate da qui posso entrare short andiamo a vedere poi magari sto facendo un esempio un po' bruttino ok l'espansione era questa questa è la zona dove è arrivato ho fatto un ritracciamento per non andare a rompermi questo massimo quindi da qui io incomincio a vendere da questa zona qui incomincio a vendere da questa zona incomincio a vendere e comincio a portarlo sempre più basso sono degli esempi questi ok perché mi è venuto in mente che volevo far vedere altri fibonacci questo di Mario lo facciamo personalizziamo la prossima volta perché si può anche personalizzare questo indicatore qua ok una media mobile mettiamo una media mobile sul time frame orario mettiamo la classica 100 vediamo cosa mi esce fuori l'ultima che poi vi lascio media 100 esponenziale la lasso rossa così si vede ed è questa ok ogni volta che il prezzo è sotto la media io vendo sui pivò da qui vendo da qui vendo da qui posso vendere qui è già vicino alla media però io potrei anche tentarmi qui di vendere il prezzo mi va a toccare la media 100 periodi cosa succede? dalla media 100 periodi mi posso tentare comunque lo sort una volta che il prezzo va sopra incomincio a comprare dai pivò ogni volta che il prezzo è sopra io compro fatevi degli esempi veramente provate a farvi magari delle medie con le medie non so ci sono tantissime cose o usare un grafico nudo soltanto quindi pivò potete fare anche una cosa una cosa del genere l'ultima poi eh poi vi lascio allora un attimo così andiamo a vedere quel grafico che ho aperto prima ci sono anche i pivò settimanali ci sono i pivò mensili ci sono i pivò di tutte le parti ma quelli che funzionano di più sono quelli daily daniela che mi hai scritto che ti piacciono un attimo che vado a copiarmi a aprire questo tolgo tutto quanto quello che c'è dentro oggetti tolgo il pivò ok ho un grafico vuoto pulito cos'è che posso fare in un contesto long quando vedo che questo qui è un minimo che ha tenuto per tutta questa giornata da price action quindi da qui pivò già mi dicono che è la giornata metto i separatori di periodo quando il prezzo di questa candela qui mi va a rompere il massimo della candela prima quindi è da price action long quindi da qui posso cercarmi tutti i punti long che posso entrare su tutti i pivò quando sul minimo di un altro vedi che questa giornata qui per esempio mi viene rotta qui da qui in poi da price action so che posso cercarmi tutti i punti short da qui invece dove il prezzo mi ha rotto di nuovo long cercherò tutti i long fino a un certo punto dove il prezzo mi rompe di nuovo questa candela ribasso quindi lo sta quasi per fare e da qui mi cercherò di soldi bene per oggi basta così l'ultima cosa Daniela mi hai scritto prima ci sentiamo magari nel primo pomeriggio perché adesso sono un po' un attimo in operazione ho un webinar ancora da fare per il mio sito se mi dai soltanto mi scrivi soltanto adesso qui se con la discesa che sta facendo adesso l'euro con la discesa che sta facendo adesso la stellina perché con te non c'hai stellina dentro dovrebbe essersi tornato tutto quanto alla normalità giusto addirittura dovrebbe il robottino dovrebbe aver cominciato ad aprire posizioni long si è chiuso cos'è si è chiuso mai long si è chiuso cosa si è chiuso le posizioni si sono chiuse si sono chiuse tutte adesso quante posizioni aperte hai nessuna perfetto nessuna posizione aperta nessuna posizione sull'euro dollar aperta neanche in long niente e va beh sul DAX si però ok va bene allora facciamo così c'è ancora un paio di minuti prima delle 11 ci sentiamo subito dopo il webinar ok io vi ringrazio a tutti per la partecipazione chiudo la registrazione adesso